Le serie tv hanno una sorta di superpotere, ci accompagnano durante svariati momenti della nostra vita e proprio perché durano tanto rispetto alle classiche due ore di un film riescono a portarci per svariate settimane in ambientazioni fantastiche ci fanno vivere a stretto contatto con i personaggi e spesso e volentieri, almeno io, mi scimmia un sacco è proprio con una serie tv fra le mie preferite che voglio iniziare quest'anno sul canale, questo 2021 oggi parliamo di una delle serie che preferisco una serie ancora in corso appunto, come avrete già detto dal titolo oggi parliamo di Stranger Things io sono Isimene Tarka e in questa serie di video analizzo i film dal punto di vista di un fotografo vi parlo quindi del perché i registi, i direttori della fotografia e tutto lo staff che ci sta dietro ai film faccia determinate scelte a livello di colori, illuminazione, scenografia eccetera eccetera quindi vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdervi i prossimi episodi inoltre se c'è un film che vi piace particolarmente e vorreste vedere un video proprio su quel film in cui magari lo analizzo appunto dal punto di vista fotografico scrivetemelo giù nei commenti che mi fa sempre piacere scoprire nuovi film da guardare detto ciò iniziamo a parlare di Stranger Things vi do qualche info generica, è una serie che appunto va avanti dal 2016 quindi una serie molto recente distribuita su Netflix è stata girata principalmente in Red Dragon e in Red Helium molto particolare è la scelta di girare in digitale una serie analogica tra virgolette tuttavia per evitare di avere un'immagine troppo digitale, troppo recente tra virgolette, troppo moderna è stata aggiunta in post la grana di una scansione appunto di una pellicola 35 mm che ci permette appunto di ambientarci un po' meglio nel passato alla regia abbiamo i Duffer Brothers, Matt e Ross e alla fotografia abbiamo Team Hives e quindi andiamo un attimino a parlare della trama velocemente per chi non avesse visto Stranger Things non farò grandi spoiler in questo video quindi potreste guardarlo comunque anche se in realtà vi consiglio di guardare la serie perché è veramente fantastica è una delle serie che preferisco riassunto velocissimo per chi non la conoscesse anche se ne dubito siamo negli anni 80 in una cittadina americana c'è un gruppetto di 4 ragazzini uno di loro sparisce intanto in un laboratorio appare una creatura mostruosa che non va molto d'accordo con gli scienziati e una bambina detenuta nel laboratorio approfitta del casino creato da questa creatura e scappa ovviamente questa bambina che ha dei poteri psicocinetici incontra i tre bambini che hanno perso il loro amico e niente il bambino è scomparso è finito in un'altra dimensione è chiamata ai sottosopra e questa bambina lo conosce proprio perché ha dei superpoteri e quindi vorrà aiutare poi i bambini a cercare il loro amichetto scomparso e non vi dico altro perché da qui in poi potrebbero esserci degli spoiler quindi come faccio sempre andiamo ad analizzare questo film partendo da alcuni shot da alcune riprese iniziamo proprio dalla prima scena della prima stagione questo viene detto in americano establishing shot cioè la ripresa che stabilisce diciamo dove ci troviamo in che contesto siamo ci dà insomma informazioni su ciò che stiamo guardando infatti possiamo leggere 6 novembre 1983 Hawkins indiana quindi siamo negli anni 80 e si capisce già un po' dalla musica synth che si sente in sottofondo la serie è ambientata appunto ad Hawkins indiana che è una città fittizia in realtà gran parte della serie è stata realizzata in Georgia vicino all'Atlanta e in paesini comunque limitrofi quindi Hawkins non esiste è una città fittizia ma tornando a noi le prime scene vedono la fuga in un laboratorio di uno scienziato l'atmosfera si fa sempre più cupa e tac taglio su una casa con dei bambini che giocano a Dungeons & Dragons ora non ne parlerò in questo video perché ci vorrebbe un altro video dedicato ma fate attenzione quando guardate questa serie a come vengono fatti i tagli prendete ad esempio il clima di tensione di questo scienziato che scappa dal laboratorio poi si passa a un maffiatore da giardino con tutta la tensione però che c'era in quel laboratorio mentre dei bambini sono pesi perché stanno giocando a D&D già dalle prime riprese a casa di Mike abbiamo la classica scena della famiglia americana in cui il papà sta alla televisione la mamma sta in cucina tipico degli anni 80 e 90 e voglio utilizzare proprio questi primi frame per parlarvi un attimino dell'ambientazione di Stranger Things come avrete capito tutta la serie si ambienta fra gli anni 80 e gli anni 90 bene o male dal 1983 in poi è molto difficile ricreare tutta quell'ambientazione adesso nel 2020 o meglio nel 2016 quando è stata girata la serie questo perché? perché bisogna fare in modo che tutto ciò che lo spettatore veda richiami appunto agli anni 80 e non basta mettere magari due vestiti particolari e una musica sinti in sottofondo ma ci vuole un lavoro veramente enorme perché tutto ciò che si vede nella serie deve essere un qualcosa di collegabile agli anni 80 per ovviare a questo problema i Duffer Brothers hanno chiamato Linda Rice una delle migliori prop master nel mondo del cinema cosa fa la prop master? fondamentalmente chiama il regista e gli dice guarda mi dai 200.000 euro e io ti cerco tutto quello che ci serve per la serie ed è così che è stato sono stati investiti più di 200.000 dollari esclusivamente in props i props cosa sono? sono tutti gli oggetti di scena quindi ad esempio una radio un Walkman i prodotti che vediamo negli scaffali ecco tutto questo materiale è stato comprato o realizzato eccetera eccetera per essere inserito nella serie e questa cosa ci permette di ambientarci minuto dopo minuto in quello che è il mondo di Stranger Things e io sono rimasto veramente affascinato dall'estremo lavoro che è stato fatto a livello scenografico in tutte e tre le stagioni stupendomi sempre di più perché secondo me oltretutto nella terza stagione hanno fatto un lavoro veramente assurdo nel ricreare tutto il mall complimenti davvero ma passiamo dunque al secondo shot che voglio mostrarvi in questa ripresa Will sta scappando da casa verso il capanno è impaurito sta scappando da questo ipotetico demone che ancora non conosciamo troppo bene stiamo al settimo minuto bene o male siamo all'inizio proprio della prima puntata della prima stagione e voglio utilizzare questa ripresa per parlarvi un po' di illuminazione in questa scena appunto abbiamo Will che scappa da casa e appena arriva vicino al capanno è proprio fuori dal capanno lo vediamo illuminato da questa luce parecchio forte parecchio calda a sinistra abbiamo la casa da cui sta scappando che è contestualizzata in toni freddi vedete il cielo blu astro tutti i colori che psicologicamente si collegano alla paura e dall'altra parte abbiamo il capanno che è un po' il punto dove Will potrebbe trovare la salvezza che è rappresentato con una luce calda la cosa veramente figa è che come vi ho detto prima c'è una luce particolarmente forte quando Will è fuori dal capanno ma appena entra dentro il capanno vediamo che in realtà dentro c'è solo una piccola lampadina che non avrebbe mai fatto abbastanza luce per illuminarlo fuori questo perché generalmente nel cinema si utilizzano le cosiddette practical lights sono sostanzialmente luci che ci permettono di enfatizzare il comportamento di un'altra luce vi faccio un altro esempio ancora più pratico qui a fianco c'è la mia barra neon che fa una luce bluastra però io volevo enfatizzare un po' il contrasto fa il rosso e il blu di Stranger Things e quindi qui ho aggiunto questa luce rossa qui ho questo neon azzurro e in realtà ho aggiunto anche una luce con una gelatina blu per avere più bluastro qua ora la spengo e vi faccio vedere vedete alla fine non cambia tantissimo ma se io accendo quella luce sembra come che questo neon ne faccia ancora di più anche se in realtà non è così allo stesso modo nella scena in cui Will corre verso il capanno hanno utilizzato una luce molto potente per simulare quella che poi è in realtà la luce di una lampadina e questa cosa viene utilizzata tantissimo sia nel cinema sia in Stranger Things stesso prendiamo ad esempio le iconiche scene in cui i ragazzi giocano ai videogame per illuminare bene i loro volti al posto dello schermo classico del cabinato sono state utilizzate delle luci che illuminassero appunto un po' i loro volti e fateci caso perché è molto interessante andare a cercare tutti i punti luce perché poi ci può essere anche utile quando andiamo appunto a fare cose noi da soli in casa come ad esempio appunto questa luce blu che ho aggiunto per questo video un'altra cosa che ho apprezzato a livello di illuminazione è il fatto che tendenzialmente vengano utilizzate luci blu astre o luci comunque fredde per rappresentare tutti i momenti di paura tutti i momenti al buio o tutte le scene diciamo nel sottosopra una parte caratterizzante di questa serie è la ricerca che avviene spesso nel bosco perché Okis appunto è una città prevalentemente boschiva e durante tutte queste ricerche vengono utilizzate delle torce che in realtà in quel periodo non ci sarebbero state perché siamo negli anni 80 non c'erano ancora le torce allo xeno quindi le torce azzurrine ma si trovavano principalmente torce giallastre halogene e anche qui sono stati molto intelligenti a utilizzare torce che magari non potevano esistere negli anni 80 non lo so di preciso che però rendano molto meglio in scena passiamo dunque al terzo shot che voglio mostrarvi qua si parla del void il vuoto che è un po' la rappresentazione della mente di undici che usa i suoi poteri extrasensoriali per localizzare delle persone magari che sono in luoghi diversi inizialmente undici infatti veniva immerso in una vasca in cui perdeva i sensi e poteva connettersi alla sua mente al vuoto così facendo poteva identificare appunto persone che erano in luoghi diversi e perché non mettere una bambina dentro un laboratorio in una vasca per trovare una spia russa ah la guerra fredda bellissima e cosa mai potrebbe andare male se non che undici a una certa riesce a scoprire dell'esistenza di questo demone a connettercisi nel vuoto quindi entra in contatto col demogorgone che crea una frattura col mondo reale e Arniva nel mondo reale ammazza tutti boom ottima scelta comunque sia il void mi ha affascinato inizialmente pensavo ci fosse un grande lavoro in post produzione in CGI ma vediamo un po' come l'hanno realizzato a detta dei Duff Brothers si sono ispirati a Under the Skin un film del 2013 e per motivazioni legate sia al budget sia al realismo poi della scena e alla semplicità del rappresentare un qualcosa di presente nella mente di undici per realizzare il vuoto hanno creato di fatto una stanza vuota con pannelli neri ai lati hanno utilizzato un'illuminazione super diffusa dall'alto e in terra hanno bagnato tutto con un leggero velo d'acqua quindi automaticamente quella luce super diffusa mista all'acqua creava dei bellissimi riflessi e poi in post produzione abbassando un po' appunto l'esposizione della scena sono riusciti a ottenere questo spazio tutto nero praticamente infinito appunto il vuoto concludiamo dunque questo video parlando dei colori due dei colori iconici relativi a Stranger Things sono appunto il blu e il rosso che ho deciso di utilizzare anche in questo video e sono un po' i colori che ci appaiono sin da subito guardando il poster del film utilizzati soprattutto perché ci danno un fortissimo richiamo a tutti quelli che erano i film degli anni 80 altre cose che ho notato però a livello di colore che mi sono piaciute sono ad esempio la correlazione fra le luci calde e le luci fredde nella vita di Mike e nella vita di undici se prendiamo casa di Mike il protagonista principale sostanzialmente questa casa ci rappresenta un po' anche il senso di famiglia è calda calorosa accogliente non a caso tutti gli elementi presenti in scena hanno quei colori le luci sono calde le moquette rispondono a colori caldi le pareti sono di legno e tutto questo ci permette di riuscire a mantenere un buono skin tone non troppo influenzato dall'illuminazione mantenendo comunque quei colori caldi al contempo le scene in cui magari undici è in laboratorio non ha una famiglia vive in questo laboratorio e viene rappresentata con toni molto più freddi con un leggero Tiren Orange giusto per staccarla un po' da quelli che sono appunto i colori troppo freddi e in questo caso non hanno esagerato col Tiren Orange credo il motivo sia legato al fatto che negli anni 80 non si utilizzasse troppo questo Tiren Orange quindi si l'hanno usato per dare un po' quello spicco al personaggio però non hanno voluto esagerare giustamente per non discostarsi troppo dal look anni 80 ultima cosa che ho apprezzato è il fatto che nella terza stagione che è secondo me la mia preferita a livello fotografico la color si normalizzi un po' da una parte abbiamo questi colori molto pastello molti neon al contempo però in molte scene la color va a normalizzarsi non è più o calda o fredda ma è praticamente molto tenue con colori pastello che ci facciano identificare i personaggi e mi piace che venga creato questo ambiente di normalità che si collega perfettamente secondo me al fatto che la serie passi a parlare di temi un pochino più normali mentre nelle prime stagioni viene accentuato molto il concetto fantascientifico nella terza stagione i personaggi sono cresciuti i temi sono più umani come il cambio di interessi dei vari personaggi quindi le amicizie che cambiano le storie d'amore che nascono eccetera eccetera quindi crescono i personaggi i temi si fanno sempre più umani tra virgolette e quindi la color un po' si normalizza lasciandoci comunque grazie allo shopping mall eccetera eccetera tutta quell'ambientazione super anni 80 che è estremamente caratteristica di questa serie questo video si conclude qua spero vi sia piaciuto vi invito a lasciarmi un bel commento a scrivermi cosa ne pensate ho deciso di impostare questo video diversamente rispetto a quelli dell'anno scorso la serie della fotografia nel cinema andrà avanti ogni mese questo perché è molto difficile mantenere una costanza perché sono video difficili da scrivere voglio cercare ogni volta di darvi qualche spunto diverso e niente spero che l'episodio vi sia piaciuto comunque da Simone Tark è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao